Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore che riempie l'universo sia oggi in ciascuno di voi, guidi i vostri passi, guidi il vostro cammino, ricolmi la vostra anima della sua presenza e susciti in voi quella lode che Dio chiede a ciascuno di noi, fratelli. Come si dice il Salmo oggi, Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa e dieci corde a Lui cantate, cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate. Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rendevani i progetti dei popoli, ma il disegno del Signore sussiste per sempre. I progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Ecco l'occhio del Signore e su chi lo temo, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. E il Salmo 50 ci dice, fratelli, Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. E Sant'Agostino, come Dante con le parole del salmista, che dice, cantate a Dio con arte, si chiede, ma qual è quell'arte così perfetta che possa essere degna di Dio? Non esiste un'arte perfetta davanti a Dio. E perciò dice che la preghiera che Dio gradisce di più è quella musica, quel canto, non imparato, ma che sgorga dal profondo del cuore. Quello che lo Spirito Santo, meglio, fa scaturire dal cuore dell'uomo e si eleva come un inno di adorazione, di lodi a Dio. Ecco, Dio gradisce quest'arte, l'arte del cuore. E siccome appunto non ci sono parole adeguate e non c'è musica adeguata che possano dare i Signori, dice Sant'Agostino, allora il canto perfetto, la loda perfetta che Dio vuole è quella che nasce dal cuore, che si esprime meglio con i gemiti che con le parole. E porto un esempio, quando i mietitori, dice, vanno a mietere di grano, e cominciano a canticchiare, canti conosciuti, ma quando il lavoro è prospera, e il raccolto si accumula, e il cuore si rallegra, allora il cuore comincia a fare dei suoni liberi, senza una melodia imparata, si tira fuori quel che c'è di più profondo nell'anima. Dio vuole quanto c'è di più profondo nell'anima nostra, per lodarlo in tutte le cose. E oggi, nella prima lettura della Messa, la Chiesa ci propone il racconto di Giuseppe l'ebreo. Giacobbe aveva dodici figli e una figlia, Dina. Questi dodici figli e questa Dina ha avuto da quattro donne diverse, le due donne che aveva sposato, Lìa e Rachele, e le loro due serve, che non avendo loro più possibilità di generare, detto a Giacobbe le loro serve perché avesse figli da loro, e in tutto ne ebbe appunto dodici più una figlia. Ora, quando avvenne una carestia, Giacobbe mandò i suoi figli in Egitto a prendere, a comprare del grano. Ma il figlio più caro che Giacobbe aveva, che gli era stato partorito dalla moglie che lui amava, Rachele, quel figlio un giorno, andando a trovare i suoi fratelli al pascolo, fu oggetto di un complotto di gelosia da parte loro, che volevano ucciderlo. Poi alla fine, sul suggerimento di uno di loro, decisero di venderlo come schiava ai maglianiti che andavano a commerciare in Egitto. E così questo Giuseppe andò a finire in Egitto, fu comprato da un generale del Faraone, e la moglie di questo generale un giorno tentò a Giuseppe, si invaghi di lui, ma Giuseppe non volle peccare con lei. Allora lei si vendicò accusando Giuseppe presso il marito, dicendo che lui aveva tentato di farle violenza e fu messo in prigione. e lì in prigione ebbe modo un giorno di interpretare dei sogni fatti da servi del Faraone e uno di questi un giorno ebbe a raccontare al Faraone come in Egitto, in prigione, c'era un tale che gli aveva spiegato i suoi sogni e aveva indovinato, perché anche il Faraone aveva fatto dei sogni, avevano sognato delle macchie grasse, delle macchie magre, a un certo punto le magre mangiarono, divorarono quelle grasse, così delle spighe piene e spighe vuote, queste vuote divorarono quelle piene. E Giuseppe spiegò, ci sarebbero state sette anni di abbondanza e sette anni di magra. E allora il Faraone, non avendo avuto spiegazione da nessun altro se non da Giuseppe, lo nominò in Vigilè e lo propose alla vendita del grano al popolo. E quando quindi Giacobbe seppe che in Egitto si vendeva il grano, mandò i suoi figli a cercare di comprare del grano e loro si dovettero rivolgere al loro fratello Giuseppe che però non manifestò la sua identità. e saputo che il padre era vivo e saputo che aveva un altro figlio il più giovane, cioè il fratello di Giuseppe nato sempre dalla stessa donna Rachele che poi era morto nel dare alla luce e Beniamino, Giuseppe chiese che gli fosse portato quel fratello più giovane, cioè il proprio fratello carnale da parte di madre perché potesse ricevere ancora del grano e manca uno di loro doveva rimanere prigioniere lì in Egitto. E così fecero. E Giuseppe, quindi resistente, questi poi tornarono successivamente e Giuseppe manifestò la sua identità e si fece riconoscere dai suoi fratelli che purtroppo furono costernati pensando adesso lui ci farà morire. mentre Giuseppe prese il peccato che i fratelli avevano compiuto come un qualcosa permesso da Dio perché lui un giorno potesse essere il salvatore dei suoi fratelli. E questa figura di Giuseppe è figura tipo del figlio di Dio, Gesù Cristo che assume la nostra umanità, fratelli, fa ricadere su di sé i peccati degli uomini per salvare coloro che lo crocificano. Gesù salva coloro che l'hanno bestemmiato vuole salvare coloro che lo stanno perseguitando che lo stanno negando dalla faccia della terra. Quel gesto Gesù Dio l'ha preposto a diventare il salvatore di tutti anche dei suoi nemici come dice Santa Catarina da Siena Signore tu vuoi la salvezza anche di chi ti perseguita dal momento che ci comanda di pregare per loro e della santa verità. Vedete il progetto di Dio? L'uomo tresca contro Dio volendo uccidere Giuseppe il loro peccato nelle mani di Dio diventano accolte con fede da Giuseppe da precisare accolta con fede da Giuseppe che accoglie il progetto di Dio diventano le mani del Signore uno strumento di salvezza per gli altri e così è la realtà di Gesù Cristo gli uomini peccano contro di loro ma Dio Padre prende il peccato degli uomini per salvare i peccatori stessi è una sapienza che solo il cuore di Dio conosce che la mente dell'uomo può accogliere solo per fede perché va molto molto al di là di quelli che possono essere pensieri e sentimenti umani e vedete la provvidenza del Signore tutto concorre al bene di coloro che amano Dio tutto concorre e i progetti di Dio non vengono annullati dalle debolezze umane i progetti del Signore rimangono in eterno come diceva il Salmo che abbiamo appena ascoltato i progetti del suo cuore per tutte le generazioni e nel Vangelo ascoltiamo un brando di Gesù sceglie tra tutti i Suoi discepoli ne sceglie loro e dici perché stessero con Lui perché questa espressione perché stessero con Lui vivessero insieme a Lui perché la fede si trasmette da persona a persona attraverso la sottomissione obbediente e amorosa del discepolo verso il Maestro e Gesù chiede a questi tali di vivere con Lui perché imparassero da Lui come i figli imparano la fede dai genitori da come i genitori vivono ma perché che ciò avvenga non basta che i genitori siano buoni bisogna anche che ci sia una reale relazione di comunione di sottomissione tra figli e genitori allora se c'è questa benevolenza filiale verso i genitori c'è un amore sincero tra loro allora i figli accorgono volentieri quando i genitori impartiscono con la loro vita prima di tutto prima che con le parole con la loro vita quando invece si fa svolge una vita doppia falsa cioè le apparenze sono belle ma dietro c'è la falsità questo non attecchisce fratelli anche se attecchisce non porta frutto perché ciò che porta frutto è la presenza dello Spirito Signore Gesù per istruire l'umanità per condurre l'umanità alla fede tu hai voluto che i tuoi discepoli chiamati apostoli stessere con te vivessero insieme a te imparassero da te e tu hai acceso in loro la fiamma della fede la fiamma dell'amore non solo hai impartito istruzioni spiegazioni ma hai comunicato il tuo spirito li hai resi partecipi della tua vita del tuo amore della tua carità e oggi tu hai creato a chiesa nel mondo faccia attrettanto verso tutta l'umanità partecipa all'umanità col fuoco d'amore che tu ci hai donato venendo su questa terra quando tu hai detto sono venuto a portare il fuoco e come vorrei che fosse già acceso accendi oggi questo fuoco nel cuore della tua chiesa rendi la pure santa splendente di luce di verità perché tutti gli uomini abbiano a riconoscere te e tutti abbiano ad accoglierti come signore e salvatore tu che vive e regni per tutti i secoli dei secoli amen tu vergine santissima hai avuto la grazia di portare nel tuo grembo il figlio di Dio l'hai portata sulle tue braccia e lo hai nutriti con l'atto materno e lo hai nutriti con quell'amore che lo spirito santo aveva riversato nel tuo cuore con l'amore puro santo misericordioso hai nutriti il figlio tuo di santità di verità oggi tu che sei la madre della chiesa porta a compimento questo progetto di Dio nella chiesa che anche diventi nel mondo strumento di pace di salvezza di liberazione che la chiesa abbia generare figli e figli allo sposo Gesù Cristo concepiti questi figli virginalmente dal cuore virginale dona a tutta la tua chiesa la grazia di continuare la tua missione nel mondo fino a che si faccia un solo vile sotto un solo pastore e il nome di Gesù tuo figlio nostro Signore sia acclamato e riconosciuto come l'unico Signore e Salvatore a Lui gloria onore e potenza per tutti i secoli e dei secoli Amen e l'esempio della Vergine Santissima fratelli porti tutti voi a spandere la fede nelle vostre case lo sposo verso la sposa la sposa verso la sposa non facendo prediche ma testimoniando con la vita e con l'esempio e l'amore la carità di Dio che cambia i cuori e fa rinascere la vita nuova Amen Grazie a tutti